Ciao a tutti ragazzi bentornati con un nuovissimo video. Innanzitutto sono andato a vedere il canale di Draw In My World, che è un canale appena aperto e se volete passate a vederlo, comunque iscrivetevi e un consiglio che ti do è pubblica più video, inizia a mettere sopra più video, fai più video, chiedi se vuoi possiamo provare, sai anche te Minecraft o altro, possiamo provare a collegarci, fare una partita insieme, fammi sapere, comunque passate anche da lui. Per il video per Gabriele40, il video purtroppo sul sito che c'è, tutti gli episodi, mancano gli ultimi dieci episodi e non sono riuscito a trovarmi in italiano, fammi sapere nei commenti qui sotto, mi fai sapere se ti va anche in lingua originale, qui sono tutti gli inglesi, se no il mio amico me lo dà appena torna, che adesso è via a Milano, me lo dà e per il nuovo anno è fuori, quel video lì che hai chiesto è fuori. Quindi essendo comunque un episodio conclusivo, ho detto a questo punto, visto che non sono riuscito a trovarlo, lo facciamo per fine anno, così per fine anno, finiamo l'anno con il fine episodio e siamo a posto. Quindi fammi sapere se accetti questa proposta e niente. Altre cose che mi vengono in mente nel video scorso mi ha scritto The Help37 mi ha scritto la pizza dov'è, nel video quello del compleanno e la pizza non abbiamo registrato in pizzeria perché non siamo riusciti. Comunque era molto buona. Andiamo a vedere subito, aspettate ho appena sbagliato. Comunque no dai fatemi sapere tutto che vi ho detto e che così riesco anch'io a organizzarmi meglio. Il video per Gabriel uscirà a fine anno, anno, adesso mi faccio mandare il link lì dal mio amico di Milano, vediamo se riesci a portarmelo. E comunque per fine anno, inizio anno, quel video uscirà. E poi, ah poi altra roba, ho Steam adesso e quindi porterò nuove serie. Ho preso quattro giochi, mi hanno regalato quattro giochi, che non vi spoilerò quali sono perché sennò, no, non vi spoilerò niente. Dunque, vediamo di settare un paio di parametri. Allora, direi normale, attivare il sampling d'emergenza. E il keep inventory, non so se tenerlo o no. Beh dai, facciamo, facciamo di no? Facciamo di no, dai ragazzi. Era già abilitato? Ragazzi, non so se era abilitato, c'era un motivo. Niente, lo facciamo senza ci, perché noi vogliamo complicarcelo comunque. Pronti? Che è successo? Perché sono su? Allora, sto su un albero. Ah ok, non c'è la terra, c'è la terra. Dov'è quest'altra? Aspetta che non volo di sotto. No, raga, aspettate, non ho il keep inventory, quindi significa che questo libro se cado lo perdo. Non so se posso riottenerlo. No, raga, mi sa che... Ragazzi, se lo perdo siamo fregati. Aspettate un attimo. Facciamo una roba. No. Se una roba così e dopo voglio... Allora. shift. E ci stiamo in shift. Qua così. cerchiamo di salvare il salvabile. Vediamo se riusciamo a salvare i sapling. A parte che se non lo salviamo basta, cioè... Se non lo salviamo abbiamo finito, perché... Se non mi dai sapling, quello vuoi che faccia. vediamo se mi dai sapling. Ok, vediamo se mi dai sapling. bella. bella. Adesso vediamo se mi dai sapling. bella, 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 bella. Questa non so se posso craftarle. Questa non so se le distrugge o boh. abbiamo perso l'altra sopling. Ragazzi... Allora... Anzitutto... Dobbiamo aspettare che cresca il berello. come si fa? Aspettate un attimo, vediamo. Ragazzi... Abbiamo salvato l'aliana. L'unico pezzo... Due pezzi. Siamo riusciti a salvare. Fantastico. Allora, se non ricordo male, si può fare una roba del genere. Mettendo qua... Farina d'ossa. Va bene. Progresso computer. No, perché c'è il blocco sopra! Raga... Proviamo a fare una roba, vediamo. Vediamo. Ok... Isola... Questo è sapling d'emergenza. Trasform... Posso craftare... Posso craftare... Posso craftare la terra? Allora... Perché è così gliccioso? Boh... Che c'è? Oh... Raga c'è uno slime! Uno di quei giganti. Io non ho una spada. All'elettro. E poi... Quelli piccoli non mi preoccupo perché tanto... Guardate... Ma che carini che sono! Slime ovunque! Ok... Vabbè... Adesso basta un po'... Ok... Abbiamo... Dieci slime ball! What? Oh... Ma... Sì material... Ok... Sì... Ma faccio... Stick, Sabling e... Assi di quercia. Aia! Eh... Stavo pensando una cosa... Mmm... A questo punto... Farei una roba rischiosa io... Prenderei il sapling d'emergenza... Posiziono qua... Le rompo le gambe... Lo trasformo in bomb meal... 8... E preghiamo che cresca l'albero! Ok... Facciamo una piattaforma subito bella grande che così innanzitutto... Ehm... Ci allarghiamo... Cioè facciamo... Come si dice? Creiamo un po' di... Di piattaforma e evitiamo che qualche sapling finisca dentro... Fatto va dato un altro sapling... Direi subito trasformiamo questi 4 qua in 21... Sarà pericolosissimo... Però... Peraltro qua devo tenerlo finché non ho un'accesoia e non so neanche se... Ma che si possono craftare queste cose qua? Buh... Fatto c'è un altro sapling... Ragazzi se non si possono craftare... Cioè... Non so neanche se si possono prendere sinceramente... A parte che se le prendo... Buh... Ci metterò una staccionata sopra che così... Non ci finisco dentro... Allora... Vediamo se riusciamo a partire bene... Anzitutto... Ho bisogno di sapidi io... Perché adesso devo farmare... Tanto legno... Per poter cominciare... E soprattutto... Avere un po' di sapidi... In modo... Di non perdere altri... Che se ne perdo qualcuno... Va bene... Se... Mi perdo qualcuno... E ho la scorta... Direi che è una roba perfetta... Stiamo attenti a non prenderne il book... Abbiamo 4 sapling... Piazzane uno qua... E... Bon mio la manetta... Allora... Fammi vedere... Un altro devo vedere se si può spostare quel blocco di terra... Boh... Aspettate... Teoria si è un blocco di terra... Quindi... Si... Si può... Si può romperci... Si... Allora... Aspettate un attimo... Ok... Che così... Intanto... Aspettate... Faccio una roba... Voglio fare... Ehm... Andiamo qua... Prendo qua... E mi spacco le gambe... Prendo un blocco... Lo piazzo qua... Che così almeno... Mi faccio una... Una piccola base... Per... Poter... Per... Per evitare di romper le mie gambe ogni 60 volte... Facciamo una crafting table... Va... Ehm... 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 Ragazzi... Niente sapling... Un saplingino... Piccolino... Piccolino... Un saplingino... Piccolino... Non sta sempre finito... Questo sapling... Non mi ha dato... Niente... Comunque... Per questo episodio... Lo finiamo qua... Vi ricordo... Commentare... Iscrivervi... Lasciare dei like... E... Condividere questo video... Se vi è piaciuto... Lasciare tantissimi like... E... Tanto ho già detto... Vabbè... E... Per questo... Episodio... È tutto... Siamo in compagnia del nostro amico Creepy... Che anche lui... Ci sostiene... In questa avventura... Adesso... Vado... Un po' avanti... Spero di riuscire a far crescere l'albero... Farmarlo... Fare un po' di sapling... E buttarmi un po' avanti... Così almeno... Un po' di materiale... E... Craftare delle ceste... Per mettere dentro la roba... Perché vi ricordo... Che ho tolto... Il Keep Inventory... Quindi... Il libro... È da salvaguardare... Quindi... Vi ricordo... Un po' di materiale... Un po' di materiale... Un po' di materiale... Ciao... Grazie a tutti...